Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Bivio, Firenze Nord e Prato Est, coda di un chilometro in direzione Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola, sulla FIPILI code a tratti in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci e in direzione Pisa tra Navacchio e Pisa Nord Est e coda a Pisa Nord Est in uscita provenendo dal Bivio, Firenze e Livorno. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!